Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV in apertura. Torniamo a parlare del maxifurto alla porta valori per un bottino di 4 milioni e mezzo. Adesso Antonio Listazio è stato condannato anche per evasione fiscale. Dopo aver scontato una bella pena detentiva per il reato di furto pluriaggravato, nel quale ricordo non era mai stata ritrovata la refurtiva, adesso si ritrova una condanna per l'omessa dichiarazione dei proventi. È colpevole di evasione fiscale per non aver dichiarato all'erario i 4 milioni e mezzo di euro del maxicolpo ad un furgone blindato di cui era stato complice. Antonio Listazio, 60enne e autista di quel mezzo, è stato condannato per la seconda volta un anno e 10 mesi dopo i quasi 4 per il furto pluriaggravato. Ma non solo, teoricamente deve pagare anche un milione e nove di tasse, ma lui risulta nulla tenente e giura di non aver mai visto nemmeno un euro del bottino, che invece si sarebbero divisi gli altri membri mai rintrecciati della banda. Non se la passa sicuramente in un paradiso come all'inizio si è potuto credere. Il colpo risale all'11 luglio 2016, quando il furgone blindato della Securpol, guidato da Listazio, sparì mentre stava facendo il consueto giro delle aziende orafe per ritirare gli scarti di lavorazione. Venne ritrovato una decina di minuti dopo, in un'area di servizio di Baglialpino, completamente vuoto, scomparso anche l'autista. Listazio, 5 giorni dopo, fu fermato a Lucca, ma del colpo mai nessuna parola. Trovandosi in carcere indagato per il furto pluriaggravato, nel quale non ha mai reso una dichiarazione, avrebbe dovuto comunque fare una dichiarazione di redditi nella quale indicare questi elementi attivi. E quindi, secondo appunto, sarebbe pacifica una confessione fondamentalmente. Ed è questa, secondo me, l'assurdità della situazione. Grazie alla riforma Cartabia, Listazio non tornerà in cella, ma potrà cedere ai lavori di pubblica utilità. L'applicazione della pena sostitutiva non è preclusiva del fatto di poter presentare poi un appello. Ancora furti nel territorio aretino, presa di mira adesso un'abitazione di Sant'Andrea Pigli, dove lo scorso venerdì due malviventi hanno tentato di entrare, salendo da una scala esterna. Ad immortalare il tutto sono state le telecamere di videosorveglianza. A mettere in fuga, invece, i ladri, la presenza della madre del proprietario di casa, che vive nella stessa palazzina. Le telecamere hanno anche represo l'auto dei ladri, parcheggiata lungo la regionale 71. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. A Pergine Valdarno, invece, un uomo è stato arrestato dopo che era andato sotto casa di alcuni parenti, una coppia di settantenni, minacciandoli con una roncola in mano per avere le chiavi dell'abitazione. L'aggressore, un 38enne già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di violenza e danneggiamento, aveva anche un divieto di avvicinamento ai due anziani. È stato processato per direttissima con la convalida dell'arresto e poi rimesso in libertà. È stato anche denunciato per tentata estorsione e porto ingiustificato di arma. E sempre i carabinieri hanno identificato e arrestato la banda che aveva messo a segno alcune rapine con il macete, tra queste anche un attentato colpo all'interno dell'autogrilla di Pieve Santo Stefano Lungola e 45. Tre persone sono finite così ai domiciliari ed un quarto invece è stato denunciato. Sulle strade aretine, quella di questa mattina è stata una mattinata senza dubbio complicata. Lungo il raccordo autostradale, il traffico a causa di un mezzo in Navaria in direzione Arezzo è rimasto bloccato nei pressi di Pontachiani attorno alle 8. Due le auto, poiché in Valdichiana, si sono capottate a Fogliano. Questa mattina alle 9.30 un'auto è finita in un fossato, ferita una donna di 56 anni, portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. A Lucignano un'altra auto è finita fuoristrada, ferita anche in questo caso una donna, portata in elicottero a Careggi, sempre in codice giallo. E torniamo adesso a parlare dell'aggressione alla ragazzina di soli 11 anni da parte di un gruppo di coetanei. Sul tema adesso interviene anche l'associazione Futuro Aretino. Il bullismo e le dinamiche di violenza che si verificano ad Arezzo con una puntuale e preoccupante crescita portano tutti noi ad una riflessione obbligata. Inizia così un comunicato stampa di Futuro Aretino sull'aggressione subita dalla bambina di 11 anni al parcheggio Cadorna ad Arezzo sabato scorso. Chiediamo che nella nostra città i servizi sociali scrivono «Siano una prevenzione, cessino di essere un rimedio in extremis». Attendiamo, come sempre, che l'amministrazione realizzi quanto sia importante ed imprescindibile educare in ugual modo tutte le famiglie perché non ci siano figli sbagliati o meno sbagliati. Al patto educativo, sottolinea l'associazione Aretina, partecipano anche Croce Rossa, FIDAPA, CISL, Scuola 4 Novembre e Affidar. Tutti insieme chiedono a gran voce un consiglio comunale aperto dove le preoccupazioni degli aretini possano essere messe sul tavolo per fare fronte unito alle problematiche che appartengono a tutti. «Sono tutti invitati», scrive Futuro Aretino, «a prendere parte alla voglia di azione e reazione che muove la nostra associazione. Un grande abbraccio e un invito a parlarne insieme va alla ragazza aggredita e alla sua famiglia». Ed è in intervenuto su questo tema, ma anche sugli scontri avvenuti a Firenze, il sindaco di Castiglionna, Fiorentino, Mario Agnelli. Uno degli incarichi che può ricevere un sindaco, probabilmente non per meriti, ma anche per un'esperienza che ormai ha maturato nella pubblica amministrazione a un livello locale, quello del comune di Castiglionna Fiorentina, dove ho maturato complessivamente, non sembra, 26 anni di esperienza. Quindi forse è un segnale di attenzione che arriva da un partito che tra l'altro è al governo anche nella valorizzazione delle esperienze del territorio. E questo penso che sia sostanzialmente la cosa che alla fine trovo anche normale. È successo nel comune di Arezzo, ma poi ci sono anche i fatti di Firenze. Che sta accadendo ai nostri giovani? Ma sono episodi deplorevoli, che non possono avere una banale connotazione politica da una parte o dall'altra. Ci deve essere unanime la condanna per gesti che poi talvolta si notano e vengono evidenziati, tante altre volte invece sono o non conosciuti o oscurati. I disagi del mondo giovanile sono notevoli. Oggi purtroppo, e ci accontentavamo quando questi fenomeni, tra virgolette, accontentavamo quando questi fenomeni li vedevamo nei grandi centri o nelle città metropolitane, oggi questo fenomeno tristemente lo vediamo a tutte le latitudini, anche nei paesi più piccoli e vorrei dire anche nei paesi più sani. Quindi ci vuole particolare attenzione perché la vita dello studente è durante il normale orario, ma poi lo studente deve essere un esempio, deve essere anche seguito, deve essere monitorato anche all'esterno e qui viene fuori il ruolo fondamentale delle famiglie. E quindi si apre un altro discorso parecchio lungo. Ancora politica, oggi è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo, approvata con 17 voti a favore e due contrari, su proposta dell'assessore Merelli la modifica al regolamento della tassa sui rifiuti, delibera resa necessaria per adeguare la normativa comunale al test unico per la regolazione della qualità nel servizio di gestione dei rifiuti urbani emanato da Arera. Confermata poi con 25 voti favorevoli, la gestione è associata tra i comuni di Arezzo e Civitella del centro di raccolta del Mulinaccio. Nuovo regolamento comunale sulle sagre, poi illustrato dall'assessore Chierici, si va dalle portate dei menu al fatto che le sagre devono avere lo scopo di promozione di un prodotto tipico della regione oppure di filiera corta ed i fini non possono essere quelli di lucro. La delibera è stata approvata con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. Parliamo adesso di nuove povertà, sono dati allarmanti quelli che emergono dal report della regione toscana. Una famiglia toscana su dieci dichiara di far fatica ad arrivare a fine mese facendo quadrare i bilanci, mentre circa la metà ritiene di aver peggiorato il proprio stato economico nel 2022. L'8% infine vive con meno di 600 euro al mese. È quanto emerge dal sesso rapporto su povertà ed inclusione sociale in Toscana, redatto in collaborazione da Osservatorio Sociale Regionale Anci Toscana, IRPETA Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università di Siena e Caritas Toscana. Purtroppo non vediamo nemmeno nel breve periodo una possibilità di far migliorare sensibilmente la situazione perché anche i costi delle bollette, i costi dell'energia possono migliorare nel breve periodo relativamente perché sappiamo bene che sono flussi che per risalire hanno bisogno di tempo. La fotografia statistica è dedicata in gran parte al 2021 ma contiene anche un'indagine campionaria realizzata da IRPET a ottobre 2022 su un campione di 3.017 famiglie. Dobbiamo essere consapevoli che l'inflazione, molto alta, ormai sopra il 10% che si è attivata, anche se possiamo prevedere un raffreddamento nei prossimi mesi, contribuisce alla diminuzione di un potere d'acquisto che rende sempre più condizioni di disagio. Il governatore ricorda infine l'impegno regionale già messo in campo. Noi abbiamo già impegnato 16 milioni di euro in una delibera che abbiamo approvato 15 giorni fa perché l'assessorato alle politiche sociali possa sviluppare e scegliere quelli che sono interventi concreti di sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Per la regione toscana è priorità politica intervenire per sottrarre a condizioni di povertà persone, cittadini e famiglie e di intervenire soprattutto nel momento in cui ancora ci sono le possibilità per mantenere un equilibrio che non faccia cadere in condizioni di povertà. Interventi come gli asili nido gratis sotto i 35 mila euro che partiranno dal prossimo mese d'ottobre sono misure concrete che la regione anche impegnando in questo caso 233 milioni in sei anni mette in campo per proteggiare questo fenomeno. Voltiamo pagina, parliamo di pronto soccorso, da adesso si potranno conoscere in tempo reale le attese. Vediamo come. Verificare l'attesa in tempo reale nel pronto soccorso dell'Asla Toscana Sud-Est È questo il servizio che l'azienda sanitaria da alcune settimane ha messo a disposizione dei cittadini sul proprio sito web al quale basta connettersi per vedere quante sono le persone curate in ogni pronto soccorso. Abbiamo voluto assicurare la massima trasparenza sul funzionamento, chiarisce la direttrice sanitaria Simonadei, in modo che le persone che decidano di accedere al pronto soccorso possano sapere quanti sono gli utenti presenti e quindi conoscere anche il probabile tempo di attesa. Il pronto soccorso cura tutti dando priorità ai pazienti più a rischio. Basterà dunque collegarsi al sito dell'Asla Toscana Sud-Est per vedere in tempo reale il numero delle persone prese in carico. Il rosso indica le emergenze, il giallo le urgenze, due codici che hanno bisogno di una presa in carico immediata, diverso invece l'approccio per i codici azzurro, urgenza differibile, verde, urgenza minore e bianco non urgente e di minima rilevanza clinica. Nel caso dei codici bianchi azzurri, che peraltro prevedono il pagamento del ticket, si tratta di prestazioni che potrebbero trovare risposta anche nei servizi ambulatoriali territoriali. Essere tutti consapevoli del corretto uso del pronto soccorso, conclude Simonadei, favorisce una relazione responsabile tra cittadini e struttura sanitaria. Ancora sanità, otto posti letto riservati ai pazienti con insufficienza respiratoria sono quelli dell'Utip, l'unità di terapia intensiva pneumologica del San Donato, collocati all'interno del reparto di pneumologia. Otto posti allestiti in un'unità completamente rinnovata di moderna concezione che permette al personale di ottimizzare il lavoro e alla paziente di essere seguito in modo continuativo. Parliamo adesso di treni. La ferroviaria italiana con sede ad Arezzo viaggia sui binari dell'innovazione e della sostenibilità. Oggi infatti nella rinnovata stazione di Badia Alpino sono state presentate le novità per il 2023. Treni di ultima generazione anche per la tratta Stia-Arezzo, Sinalunga, l'investimento è della regione toscana. La priorità era la riqualificazione della stazione, abbiamo investito 2 milioni e 600 mila euro e l'acquisto di nuovo materiale rotabile. Grazie al nostro rapporto con il Ministero è un lavoro puntuale e determinato. Siamo riusciti a ottenere 6 milioni di euro di risorse del PNRR per questo primo treno POP e altri 13 milioni per un accordo con il Ministero specifico delle ferrovie di proprietà delle regioni. Quindi i treni saranno ben 3 per un investimento complessivo di 19 milioni di euro. Questo è un treno nuovo di ultima generazione, un elettrotreno costruito con il 97% da materiale riciclato, quindi anche un treno che sta chiaramente molto attento a quelli che sono i bisogni ambientali ma soprattutto la nota secondo me da sottolineare è la particolare tecnologia dei flussi di aria calda e fredda che sono flussi intelligenti nel senso che in base al numero di passeggeri regolano l'aria calda o fredda all'interno dei convogli. Con l'investimento importante che l'Aricone sta facendo per la ciclovia era utile e necessario che anche i treni che andriamo ad acquistare fossero dotati di un posteggio comodo per le bici. Oltre a questo ci sarà anche il nuovo sistema Pay & Go. Questo sistema Pay & Go ci allinea in maniera a questo punto ufficiale a quella che è la tecnologia di pagamento 4.0 dico io perché davvero con una carta di credito possiamo tranquillamente e in maniera molto rapida e semplice acquistare titoli di viaggio fino a 4 persone ed era corretto che anche la nostra linea ancorché regionale fosse dotata di una strumentazione del genere. Il CAFACLI è al fianco dei cittadini per la rottamazione delle cartelle esattoriali. L'ultima legge di bilancio ha infatti previsto la possibilità di saldare in forma agevolata i debiti scritti a ruolo tra il gennaio 2020 e il giugno 2022 proseguendo una forma di pace fiscale particolarmente vantaggiosa per i contribuenti senza sanzioni o interessi di mora. Gli sportelli CAFACLI di Arezzo e provincia dunque saranno a disposizione per offrire una consulenza e per poi procedere all'istruzione della pratica. E domani è in programma un rosario per la pace a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina a proporlo la diocesi alle 19 nella cattedrale di Arezzo. Un momento di preghiera aperto a tutti per chiedere l'intercessione della Madonna affinché possano cessare le ostilità e venga ripristinata la giustizia. A San Giovanni Valdarno invece è stato organizzato un momento di raccoglimento con una fiaccolata della pace. Nel pomeriggio canti e musiche, la sera invece tutti in piazza con una canela oppure una luce accesa. E cambiamo argomento e ci spostiamo in Valdichiana. Confcommercio e Comune di Cortona hanno infatti lanciato quattro incontri formativi gratuiti per spiegare storie e peculiarità della chianina, del vino sirà, dell'aione e dell'olio extravergine di oliva. Si tratta del progetto Cortona nel piatto. Le lezioni che si terranno nella sala del Consiglio Comunale di Cortona vedranno in cattedra quattro docenti di eccezione che si divideranno in quattro percorsi, in ognuno dei quali sarà la protagonista una delle eccellenze del territorio. Torniamo adesso in città, al teatro Pietro Laretino, il progetto della Libera Accademia del Teatro Allievi e Alievi. Uno spaventoso paesaggio di amore e morte. Ecco, che cosa sarà questo palcoscenico? Ora. Romeo e Giulietta al teatro Pietro Laretino, in scena gli allievi attori dei corsi junior della Libera Accademia del Teatro davanti a Coetanei. E se c'è qualcuno con una lama più dura di un muro, quello sono io, Samson dei Capuletti. Ah sì? E già che ci sei, hai spade la sua lama? Stanno arrivando da te molti tempi. La mia spada è pronta, Regoli. Gli attori sono degli adolescenti, dei ragazzi che studiano teatro e gli spettatori sono altrettanti ragazzi adolescenti che vengono dalle classi delle scuole aretine che hanno partecipato al progetto. E quindi è un progetto particolarmente giovane. E' tornato nelle scuole della città di Arezzo il progetto della Libera Accademia Allievi per Allievi, una formula originale rivolta alle giovani generazioni per sviluppare capacità critica, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena secondo i principi della peer education. Basta! Fermatevi, messi, nemici della pace! Fermatevi, ho detto! C'è stata a terra le armi, ha un ordine! Pena la battura per tutti quanti! Tema della sesta edizione del progetto, le grandi opere di William Shakespeare. Che cosa vogliamo mostrare con questa piesta tale, oltre a un amore immortale? Il fatto che i ragazzi hanno bisogno di adulti che li sostengano, che li capiscono, che li guidano, cosa che non esiste assolutamente nella vicenda dei Capuleti e dei Montecchi e che i ragazzi hanno anche voglia di cambiare. Lì non ce la faranno, però forse grazie a loro, chiamiamolo sacrificio, il mondo, il loro mondo a Verona cambierà, chi lo sa, noi speriamo. Passiamo adesso alla pagina dello sport. In vista della trasferta di Ponzacco, gli Amaranto questo pomeriggio hanno affrontato la nuova Fogliano in amichevole al Comunale. Tre gli assenti, Gaddini, Gucci e Polvani, tutti rimasti a riposo, a segno, con Vitto e Settembrini nel primo tempo e Pattarello nella ripresa. Questa mattina invece si è svolto nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio dei gironi della settantatresima edizione della Viareggio Cup e della quarta Viareggio Women's Cup. Al torneo maschile prenderà parte anche la Juniors nazionale del Cavallino e gli Amaranto sono inseriti nella Girone 6. La formazione Arezzo Calcio Femminile Primavera invece è stata inserita nel Girone 2. E adesso andiamo a conoscere la storia di Beatrice Coradeschi, un giovane talento aretino del Taekwondo. Le bambine non tendono magari ad avere l'idea di presentarsi in una palestra di Taekwondo perché non tanto per l'ideologia del fatto che debbano fare altri generi di sport ma semplicemente perché il Taekwondo è meno conosciuto, non c'è una grande diffusione di questo sport anche nelle scuole quindi è normale che ci siano meno adesioni da parte sia di ragazze che di ragazzi. Comunque sto vedendo delle ragazze qua in palestra che si impegnano molto, sono molto piccoline e spero che un giorno diventeranno come me o anche meglio. 16 anni nel pieno della sua adolescenza potrebbe scegliere di passare il suo tempo libero in tanti modi lei preferisce passarlo qui in palestra ad allenarsi. Siamo a Tegoleto, Civitella in Valdichiana, comune originario di Beatrice Coradeschi, giovane promessa del Taekwondo. Io pratico Taekwondo da 6-7 anni ormai, ho iniziato in terza elementare con un progetto scolastico e non ho mai saltato allenamenti, non ho mai mancato. Per poter continuare ad essere in grado di portare avanti una passione o qualsiasi cosa la cosa più importante è che ti piaccia e che quindi tu trovi divertente o piacevole che ti fa stare bene quando entri in palestra, esci soddisfatto, penso siano i requisiti fondamentali per portare avanti un impegno del genere. Atleta azzurra, reduce da incredibili successi, che vive con la naturalezza della sua giovane età ma che invece hanno dello straordinario se infilati uno dietro l'altro, come è accaduto. L'ultimo in ordine di tempo a Bari, dove durante i campionati italiani cadetti sono tornati in campo i migliori atleti del freestyle nazionale di cui Beatrice fa parte, la sua esibizione è stata la più votata. Ma il successo più importante per lei è arrivato poche settimane fa ad Istanbul in Turchia dove la nazionale italiana di forme e freestyle di taekwondo ha conquistato una serie impressionante di medaglie nelle due importanti competizioni internazionali la World Taekwondo Presidents Cup 2023 e il decimo Turkish Open 2023. Ho ottenuto grandi risultati, ho preso un oro nel freestyle e un bronzo nelle forme e in più ho partecipato anche a una competizione in sincro che si chiama Trio con altre due ragazze. Che cosa ti auguri per il tuo futuro da atleta e insomma dove vorrai arrivare? Spero in grandi successi, soprattutto ora il più vicino a noi è quello dell'Europeo in Austria a novembre spero in una convocazione, in una partecipazione e poi l'anno prossimo ci saranno i mondiali ma sono ancora tutte date da definire, è tutto da definire ancora. Il tennis a giotto consolida il proprio impegno nella wheelchair tennis l'ultima importante novità infatti riguardato l'avvio della collaborazione con uno dei migliori atleti italiani di questa disciplina parolimpica Lorenzo Degli Innocenti che ha iniziato il proprio percorso di allenamenti sui campi del circolo a retino per una preparazione orientata ai principali tornei nazionali ed internazionali la carriera di questo tennista ora sarà supportata dallo staffa tecnico e della struttura organizzativa della tennis a giotto che ha così confermato una vocazione orientata a combinare dimensioni sportive con quella sociale Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci